Ben trovati dal Tg della mobilità, lavori in città e riflessi sulla viabilità sulla Nometana sono terminate le potature tra Viale Regina Margherita e Corso Trieste, la strada è aperta al traffico, sia la corsia centrale sia le complanare, i normali percorsi anche per le linee 60, 62, 66, 82, 90. I lavori riprenderanno la prossima settimana da Corso Trieste, via 21 aprile, nel fine settimana la viabilità sarà regolare. A Viale Trastevere oggi e domani non sono previste chiusure per le potature, ma saranno possibili comunque rallentamenti all'altezza del Ministero dell'Istruzione, solo in direzione di Ponte Garibaldi, domenica poi le potature saranno sospese e tutto per questo appuntamento con il Tg della mobilità.